Continueremo a distinguerci come già fatto nella formazione delle liste in campagna elettorale e interpreteremo con orgoglio e rigore il mandato di rappresentanza che i calabresi ci hanno assegnato. L'obiettivo è proseguire la nostra battaglia per la legalità e lo sviluppo senza indietreggiare di un solo millimetro. Lo ha detto Pippo Callipo, candidato alla carica di Presidente della Regione Calabria nel corso delle ultime elezioni. Callipo ha incontrato candidati attivisti della lista Io resto in Calabria che lo ha sostenuto insieme con quelle del PD e dei democratici progressisti. Io resto in Calabria, prodo in Consiglio regionale ed è la prima forza politica in 33 comuni. Candidati attivisti analizzano i dati elettorali assieme a Pippo Callipo, si legge in una nota della lista che si fa rilevare, porta quattro consiglieri a Palazzo Campanella e, oltre ad essere la seconda forza dell'opposizione, conquista il primato in molti territori, tra cui Vibo, città e provincia, Rende e Paola. Ora punta a strutturarsi sui territori. È stato firmato l'accordo quadro tra i comuni di Rende e Montalto Fugo per la realizzazione delle opere accessorie necessarie alla realizzazione dello svincolo autostradale di Settimo. La firma di oggi, dicono in un comunicato congiunto ai sindaci Marcello Amanna e Pietro Caracciolo, sancisce la convergenza di intenti nell'avviare il discorso intorno alla città unica. Viabilità smart, sviluppo urbanistico e infrastrutture sono gli assi su cui intervenire in maniera sinergica. Nella prossima settimana, hanno annunciati i due primi cittadini, ci incontreremo per discutere dei piani strutturali comunali che, nella nostra visione unitaria, dovranno confluire in un disegno di città allargata, non solo con le opere già avviate, ma pensando alla nuova stazione ferroviaria che, essendo posta in prossimità della confluenza delle linee Cosenza-Paola e Cosenza-Sibari, avrà una funzione strategica a livello regionale e contribuirà ad elevare i flussi veicolari in prossimità dell'area dello svincolo autostradale e al nuovo ospedale come esempi virtuosi di governance. Sono state le nuove tecniche di esame sul DNA sconosciute all'epoca dell'effatto a portare all'arresto del secondo componente del commando che, il 22 aprile 1988, uccise il 21enne Giuseppe Cartisano, nell'ambito di quella che è stata chiamata la Seconda Guerra di Indrangheta, che tra il 1985 ed il 1991 provocò oltre 700 morti a Reggio Calabria. Si tratta di Vincenzino Zappia, di 52 anni, già detenuto per altra causa. L'uomo è accusato di omicidio premeditato ed aggravato da motivi abbietti. Cartisano fu ucciso da due persone nel bar Gelateria Malavenda, nella centralissima piazza De Nava. I sicari spararono numerosi colpi di arma da fuoco. Durante la fuga, intercettati ed inseguiti da una pattuglia dei carabinieri, spararono anche contro i militari che risposero al fuoco, uccidendo uno dei sicari, Luciano Pellicano, di 22 anni. L'altro, benché gravemente ferito, riuscì a dileguarsi approfittando dell'aiuto di complici rimasti ignoti. Sulla via di fuga dei banditi, i carabinieri repertarono numerose tracce di sangue perse dal fuggitivo. Gli accertamenti tecnici condotti all'epoca non consentirono, tuttavia, per le conoscenze tecniche di allora, di individuare l'uomo. L'indagine, che ha portato all'arresto di Zappia, condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e dalla PM Valtre Ignazzitto, è stata avviata nel settembre 2019 e ripresa nel 2019, quando la DDA, nel riesaminare le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che avevano fornito indicazioni sul delitto, ha disposto nuovi accertamenti sui reperti rimasti custoditi per più di 30 anni negli archivi giudiziari. Grazie alle moderne tecniche di laboratorio, i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Messina hanno estrapolato il DNA nucleare che, comparato con quello di Zappia, ha riscontrato la perfetta sovrapponibilità tra i due profili genetici. Sicuramente l'attenzione della direzione del settore antimafia è quella di riuscire a far luce su tutti i fatti delittuosi che si sono verificati nel corso degli anni. Questo è un caso che può costituire un metodo di indagine. Io sto cercando di sollecitare le forze di polizia a creare un gruppo di lavoro che riesca a individuare tra tutti i fatti omicidiari e comunque i fatti di sangue che sono rimasti senza colpevoli, senza responsabili, quelle vicende delittuose che a seguito di accertamenti dell'epoca hanno consentito di ripartare del materiale organico o comunque delle evidenze che all'epoca non hanno dato risultati positivi in ragione delle conoscenze tecniche e scientifiche di quegli anni ma che oggi, alla luce delle nuove metodologie, dei nuovi risultati che la scienza ha ottenuto, possono essere rivisti e possono fornirci elementi certi di responsabilità a carico di persone fisiche determinate. Una grande soddisfazione, una bella indagine che segue un bel intervento proprio in flagranza operato dal radiomobile 30 anni fa che senza timore hanno affrontato due afferritissimi killer di indrangheta uccidendone uno, ferendo l'altro che poi è stato oggetto, scena del crimine che è stato oggetto poi di una efficacissima analisi e ripartamento delle tracce ematiche sul posto conservazione delle tracce ematiche fatta particolarmente bene che dopo 30 anni ha dato modo poi agli investigatori del reparto operativo e al reparto di investigazioni scientifiche di Messina di ricostruire compiutamente tutto quello che è avvenuto quel famoso 22 aprile del 1988. A dimostrazione, devo dire, proprio veramente di una professionalità che in 30 anni non è cambiata noi abbiamo, si è evoluta meglio ma non è cambiata noi abbiamo recuperato gli atti dell'epoca i verbali, i brogliacci, tutto perfettamente leggibile tutto perfettamente riscontrabile e soltanto migliorabile, ripeto, con le nuove tecnologie che adesso metteremo sempre di più a disposizione di questo sforzo che sta facendo la Procura per non lasciare nulla di impunito e per dare un nome, un volto ai killer che all'epoca, ripeto, fecero più di 700 morti in questa città e anche nel resto della provincia. Avrebbero obbligato un imprenditore di Lamezia Terme a cedere loro attraverso una vendita fittizia un appezzamento di terreno a destinazione agricola al fine di costruirvi un manufatto da destinare ad abitazione. Con questa accusa, la squadra mobile di Catanzara ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Aurelio Maurizio Notarianni, 57 anni e agli arresti domiciliari nei confronti del figlio Luigi, 29 anni ritenuti responsabili dei reati di estorsione consumata e di tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso espressione della forza di intimidazione del vincolo associativo dell'Andrangheta. Le attività investigative dirette dalla DDA di Catanzaro delegate alla squadra mobile del capoluogo e svolte con l'attivazione anche di diversi strumenti tecnici hanno permesso di ricostruire i fatti. Aurelio Maurizio Notarianni già nel 2008 in vista dell'acquisto del terreno da parte di un imprenditore la mattino si sarebbe fatto consegnare da quest'ultimo 10.000 euro al fine di consentirgli un tranquillo godimento del bene. Lo scorso anno i due si sarebbero recati in più occasioni nell'esercizio commerciale dell'imprenditore titolare del terreno intimandogli di intestare alla compagna di Luigi parte dello stesso appezzamento di terreno mediante una compravendita simulata da formalizzare presso un notaio con una corresponsione fittizia di denaro da parte dell'acquirente. In attesa della realizzazione dell'atto di compravendita i notarianni si erano impossessati del terreno iniziando la costruzione di un immobile abusivo. Avviso di conclusione indagine per 57 persone coinvolte nell'inchiesta antimafia a rimpiazzo contro il clan dei Piscopi Sani con base operativa nella frazione Piscopio di Vibo Valencia. La DDA di Catanzaro, rispetto al blitz dell'aprile dello scorso anno, ha notificato l'avviso anche a due finanzieri in servizio a Vibo Valencia. Si tratta di Giovanni Tinelli, 43 anni, originario di Trieste, appuntato della Guardia di Finanze in servizio a Vibo, e di Mariano Natoli, 51 anni, di Termini Imerese. Anche lui finanziere in forza al reparto operativo della Guardia di Finanza di Vibo con mansioni di addetto alla sala operativa del comando provinciale. Tinelli è accusato di favoreggiamento personale per aver omesso di denunciare Raffaele Moscato, esponente di spicco dei Piscopi Sani, e dal 2015 collaboratore di giustizia, mentre Natoli è accusato di aver rivelato nel 2013 segreti d'ufficio in relazione all'operazione Libra contro il clan Tripodi di Portosalvo e Vibo Marina. Si è svolto a Catanzaro nella sala congressi della Camera di Commercio l'incontro sul tema nuove norme per l'antiriciclaggio ed empimenti ed obblighi, evento che è stato organizzato dalla FIMA e dalla Confcommercio Calabria Centrale e dalla Camera di Commercio, con il patrocinio del Consiglio dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro. Nell'ottica dell'informazione e della formazione per gli agenti immobiliari, FIMA Confcommercio ha inteso oggi incontrarli per trasmettere quello che sono le nuove norme e gli adempimenti per l'antiriciclaggio. Ci sono ben tre decreti legislativi italiani del 2007, 2017 e 2019 che hanno recepito delle normative e delle direttive europee. Ed è per questo che oggi abbiamo inteso trasmettere agli agenti immobiliari che sono dei veri e propri professionisti della filiera delle transazioni immobiliari quelle che sono le nuove norme, gli adempimenti e gli obblighi. Naturalmente tra i più importanti è l'adeguata verifica della clientela e poi l'eventuale segnalazione agli uffici competenti delle eventuali transazioni sospette. Oggi l'agente immobiliare non è semplicemente un operatore, diventa un vero professionista al servizio della filiera della transazione delle dinamiche immobiliari. È stato riconosciuto dal Ministero per i beni culturali come appuntamento carnascialesco di grande pregio e lo storico Carnevale di Castrovillari che affonda le sue radici nel 600 e che è giunto alla sua 62esima edizione. La maschera di Organtino, realizzata da Maura Bianchini e Mimmo Martire, canteggia sul manifesto dell'evento, presentato nella sede della BCC Mediocrati. Un manifesto ingentrato sulla maschera ma anche ingentrato sulla tradizione perché sotto la maschera ci sono gli abiti della pacchiana dei Castrovillari. Un manifesto realizzato grazie alla collaborazione di Claudio Regina che è il nostro grafico per l'edizione del 62esimo Carnevale di Castrovillari. Dal 16 al 25 febbraio saranno tante le iniziative di spettacolo che vedranno in campo oltre mille figuranti. Il folk sarà dedicato quest'anno alla nostra regione vicina che è la Basilicata, la Lucania, il Festival Internazionale del Folklore, il concorso dei gruppi mascherati dei carri allegorici con le due sfilate del 23 e del 25, gli spazi dedicati assolutamente ai bambini, il giovedì grasso con l'incoronazione del re Carnevale per poi ovviamente terminare il martedì grasso così come vuole la nostra tradizione e poi tanto tanto divertimento dedicato ovviamente con grande attenzione a quelle che saranno ovviamente tutte le attività di ospitalità dei tanti turisti che affolleranno la nostra città. La BCC Mediocrati da anni sostiene l'evento, capace di creare un importante indotto economico sul territorio e quest'anno nasce anche l'idea di un gemellaggio. Un possibile gemellaggio con il Carnevale di Fano perché c'è la nostra BCC di Fano, del gruppo Icrea sempre, che è main sponsor di quel Carnevale quindi è possibile che l'anno prossimo, chi lo sa, ci proviamo se gemellare Castroviller con Fano. Una Monica Guerritore luminosa dentro il buio di una scena essenziale questa è la prima immagine per il pubblico del Cineteatro Garden di Rende dall'inferno all'infinito. L'inizio della Divina Commedia è la cosa che più mi ha ispirato perché se uno pensa nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura è proprio l'inizio di un viaggio che uno fa in un luogo sconosciuto. il luogo dell'anno nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. È stato un viaggio puro, incontaminato la strada che l'artista non solo ha percorso ma ha creato come in un turbine emozionale ha marcato i suoi passi come una guida che ha saputo riconoscere un percorso fatto di letteratura, parole, sensazioni, suoni. Io sono un po' Virgilio in questo senso per il pubblico perché seguendo me sono io che gli dico vieni, vieni e ti accompagno il famoso mentore, il maestro e il pubblico si fa condurre. Nello spettacolo, l'ottavo della rassegna di teatro e musica prima fila dell'Associazione 900 Teatri presidente Luisa Giannotti direzione artistica Benedetto Cassiota la guerritore avvia la sua performance da una discesa agli inferi descritta da Dante Alighieri ma facendo luce su nuove attinenze e affinità che lei sola ha saputo liberare. In quel nero narrato si fanno strada archetipi atemporali che aiutano a comprendere il grande potere selvaggio dell'anima. Aiutano lo spettatore in questo abbandono quasi psicoanalitico che lo porterà a entrare nell'inferno ad avere paura ad essere accompagnato da Virgilio a incontrare Beatrice a incontrare i vari aspetti dell'amore carnale e profano le figure dei genitori il padre di Ugolino e poi dopo incontriamo altre figure perché il padre si porta dietro la madre di Elsa Morante e poi gli amori impossibili e infelici della Valduga Madame Bovary e poi dopo si è con se stessi si è con se stessi e solo quando si è con se stessi si è con Leopardi e con l'infinito di Leopardi e attraverso la voce, i gesti e i suoni porta il pubblico verso la via d'uscita obbligata e ambita del suo naufragar dolce. Celebriamo i 700 anni di Dante i 200 anni dell'infinito tutto in una serata. Complimenti anche a noi perché scegliamo bene vuol dire che la qualità insomma si sceglie con persone che sono di grande profilo culturale. Si è svolta nei locali del Convitto Gallupi di Catanzaro la mostra arte contemporanea di Amedeo Lamberto. Lamberto è un artista poliedrico ed eclettico sempre pronto a sperimentare in quanto a suo avviso l'artista deve essere in grado di suscitare sempre nuove emozioni. Ha partecipato a numerose manifestazioni artistiche ed eventi culturali ed ha esposto le sue opere in centri d'arte attualmente impegnato in una serie di progetti per il recupero delle tradizioni delle culture latine e dell'America meridionale. Io parlo dei miei quadri è la sofferenza sia personale sia la determinazione che vivo durante il giorno perché quello che vedo durante il giorno io esprimo con i miei quadri e allora succede proprio questo qua la rabbia e dei problemi tanti dispiaceri, tante cose io faccio arte perché voglio fare arte voglio dare molto di più per questa città primo tutto me stesso quello che riesco a capire a percepire sui miei disegni che faccio è spontaneo perché i miei disegni sono tutti spontanei di quello che sento faccio è quello che mi piace dei miei quadri perché poi sono contento quando io finisco un quadro lo guardo bene se manca qualcosa lo lascio perdere poi lo ricomincio un'altra volta si arriva anche per la città stessa quello che noi vogliamo la città si deve sviluppare molto di più sull'arte e l'artigianato quello che manca in questa città Nell'ultimo giorno di mercato il crotone acquisito dall'Ascoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 il diritto alle prestazioni sportive delle calciatori Alberto Gerbo centrocampista classe 1989 14 presenze di un gol quest'anno con la maglia dell'Ascoli giocatore molto duttile Gerbo ha un importante bagaglio tecnico ed è dotato di un'ottima corsa caratteristiche che gli permettono di disimpegnarsi con disinvoltura sia sulla fascia che in mezzo al campo tutte doti che Gerbo che ha scelto la maglia numero 16 metterà a disposizione del crotone sin dalla trasferta di Empoli inoltre il crotone ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Crespi giovane portiere che si sta mettendo in mostra per le sue ottime prestazioni nel campionato di Serie C è stato acquistato a titolo definitivo dal Gozzano e contestualmente è stato ceduto a titolo temporaneo fino alla 30 giugno 2020 allo stesso club ma c'è anche una cessione importante infatti il crotone ha ceduto a titolo definitivo Andrea Nalini al Vicenza Nalini esterno d'attacco classe 90 nelle ultime tre stagioni e mezzo ha vestito la maglia rosso-blu disputando due campionati di Serie A nei quali è sceso in campo in 40 occasioni segnando due reti e fornendo sei assist ha registrato inoltre 19 presenze in Serie B condite da una rete tre assist la società di Vrenna perde quindi uno degli ultimi pezzi della formazione che disputò la Serie A intanto si pensa esclusivamente alla gara di sabato contro l'Empoli ecco le prime dichiarazioni del nuovo attaccante rosso-blu Armenteros un giorno speciale per me una avventura nuova per me venire qua e allenare fare il primo allenamento qua così ho ho visto tutti tutti i giocatori il mister ha parlato un attimo con lui il presidente così ho trovato bene sono molto felice di stare qua ma penso che è una squadra che ha un oggettivo e io sono venuto qua perché io penso io voglio la stessa cosa e questo è portare la squadra a Serie A non sono mesi facili le ultime 3-4 mesi del campionato ma ma duri lo sappiamo tutti penso così è la Serie B siamo qua per vincere le partite più possibile e trovare l'obiettivo nostro andare alla Serie A mi sento bene mi sento bene e non è lo sappiamo noi che non ho giocato tutte le partite fino ad adesso ma questa è la la cosa che voglio cambiare voglio c'è un un fame da giocare fammi vedere fare gol il giovane Mohamed Baoli 19 anni passa in presido al Cosenza con la primavera della Samp l'attaccante Franco Algerino ha raggranellato 10 presenze e 2 reti la società Rosso Blu ha ceduto alla Perugia le prestazioni del centrocampista Leandro Greco questi arriva in Umbria a titolo definitivo fino al termine della stagione l'acquisto di Baluri va a sommarsi alle operazioni perfezionate nella giornata di giovedì con gli arrivi in casa Rosso Blu di Casasola e di Prezioso Nell'ultimo giorno di mercato ufficiale il ritorno al Catanzaro di Alvaro Iuliano dopo l'esperienza di qualche mese al Potenza il centrocampista brasiliano arriva in prestito fino al termine di questa stagione e già a disposizione di mister Auteri tre invece le partenze ufficializzate nell'ultimo giorno di mercato l'attaccante Dudu Mangni è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno al Gozzano Mangni raggiunge l'ex compagno di squadra Giuseppe Figliomeni come previsto lascia la Calabria anche Andrea Signorini il difensore genovese passa in prestito alla Triestina fino a fine stagione anche Simone Tascone un ex calciatore del Catanzaro si è trasferito infatti a Caserta a titolo temporaneo via Pescara per lui dieci presenze e due reti in questo campionato utilizzato sotto la gestione di Gianluca Grassadonia mentre non ha mai trovato sostanzialmente spazio con Auteri in panchina